Nell'attesa c'è sempre chi si ingegna. Anche nell'economia della recessione c'è opportunità. La signora, come centinaia di proprietari, sta ricorrendo ad un servizio che in California il suo piccolo boom lo vive davvero. La verniciatura di prati secchi. 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 In fondo, come dicono qui a Hollywood, ciò che conta sono le apparenze. It looks beautiful.